Davvero un piacere conoscere Andrea Sansò, una bellissima storia la sua. Intanto buongiorno Andrea. Buongiorno a te Massimo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto diciamo subito che Andrea Sansò è campione italiano di biliardo in carrozzina pool, se non vado errato, l'11 luglio scorso quando l'Italia si è laureata campione d'Europa. Alle 7 e mezza ho vinto il campionato e poi subito atti fare Italia. E quindi è stata una bellissima giornata in tutti i sensi. Un'emozione indescrivibile. Ancora non metabolizzo diciamo perché sono stati comunque due anni un po' pesanti. Quindi arrivare lì, vincere è stata una bella soddisfazione per me. Comunque è stata una vittoria per il nostro movimento che è nato da poco, da due anni, grazie a due ragazzi tosti romani, Luca Bucchi e Roberto Dell'Aquila. È nato tutto da loro, volevano giocare con altri ragazzi, con altri diversamente abili e siamo riusciti in poco tempo. Facciamo parte della federazione, facciamo parte del comitato parolimpico. Abbiamo avuto due campionati italiani quest'anno che in periodo di Covid è tanta roba e quindi sono felicissimo di questo. Ecco, la tua storia è molto particolare perché tu avevi una malformazione. A quattro anni hai subito un'amputazione bilaterale degli arti inferiori. Insomma, lo sport è tutto per te. Ma lo sport è una ragione di vita. È quello che mi ha dato la forza insieme a mia moglie. che è la cosa più importante. Infatti io posto tutte le magliette di gara Andrea e col cuoricino Carla, no col mio cognome. Lo sport è vita e quindi mi ha dato la possibilità di crescere e di superare quei problemi che ci sono quotidianamente. Per noi forse ce n'è qualcuno in più, però la vita va vissuta. Un vero atleta perché hai giocato a pallavolo, hai fatto parte della nazionale del volley-sitting. Sitting-volley, c'è praticamente la pallavolo giocata da seduti. Hai fatto pesistica, hai fatto boxing, carrozzina, insomma a 360 gradi. Il biliardo non è una novità, tu sei anche un istruttore. Hai ripreso questa disciplina dopo diversi anni, se non vado a rai. Sì, perché in Sicilia gestivo una sala a biliardi, quindi il biliardo è stata la mia passione principale. Poi per vicissitudine di lavoro, di famiglia, l'ho abbandonato un po'. Non avevo mai giocato in carrozzina, io di solito gioco con le protesi, quindi è stato per me confrontarmi per vedere se potevo giocare o meno. I risultati dicono che posso giocare. Mi pare che i risultati siano stati strabilianti. Ecco, giocare con le protesi e giocare invece in carrozzina è tutta un'altra storia? Sì, tutt'altro modo di impostare la partita perché la prospettiva è diversa. Oltre alla prospettiva la scomodità perché molti tiri in carrozzina hai bisogno dell'ausilio, della prolunga, la stecca più lunga. Quindi non sono tiri naturali che tu faresti con le protesi. Quindi là ci vuole un po' di impegno, un po' di sacrificio e comunque ci vuole la voglia. Un'altra storia particolare di Andrea è questa. Lui è di Messina. Un giorno viene a Pescara. Sapete benissimo che tra i tifosi del Messina e i tifosi del Pescara c'è un gemellaggio che va avanti da 35-36 anni, forse qualcosa in più. Sei stato invitato dai tifosi del Pescara? Ma non solo io, siamo stati invitati una decina di ragazzi a passare una settimana qua. Quindi quando siamo venuti a Pescara... Vent'anni fa? Vent'anni fa. Ci siamo divisi e siamo stati una settimana. In questa settimana tramite amici comuni ho conosciuto quella che adesse mia moglie. E ti sei fermato qui? No, veramente lei è scesa in Sicilia perché è scesa in Sicilia, 8-9 anni, però stavamo sempre qua in Abruzzo perché io sono innamoratissimo dell'Abruzzo. E quindi è stata soprattutto una mia decisione venire qua perché amo il mare, amo la montagna, amo tutto. Detto da un siciliano è tanta roba, perché Sicilia è una regione straordinaria. Non si tocca, però l'Abruzzo è stato amore a prima vista. Quando mia moglie mi ha portato a campo imperatore ho detto dobbiamo trasferirci qua. E quindi ho sempre seguito il Pescara, lo seguo tuttora, non è importanza se è serie C, B, D, il Pescara è sempre il Pescara. Me lo porto nel cuore. Questa la voglio dire perché lui ha sempre un profilo basso. Parliamo di Carletto Di Renzo, amico nostro, procuratore, ma anche campione di biliardo perché ha vinto di fatto tutto, campione europeo e tanti altri trofei. Due anni fa ti chiama e ti dice che cosa? Mi contatto perché io allora cercavo, cerco tuttora sempre di trovare nuove persone, soprattutto ragazzi disabili, per avvicinarli a qualsiasi sport. Poi se è il biliardo sono più contento. E lui mi contattò dicendomi guarda io sono disponibilissimo, se tu hai voglia di giocare, se tu ti vuoi allenare io riprendo la stecca per te perché la tua storia mi ha commosso. E quindi per me allenarmi con Carletto è come che ne so, allenarsi a calcio con la Juve. È uguale, è una persona disponibilissima, poi oltre che tecnicamente secondo me è ancora uno dei più forti giocatori. Quindi adesso gli lancio anche questo messaggio di tornare a giocare a biliardo perché ci manca. E speriamo che recepisca. Dove ti alleni? Io mi alleno al circolo Francavilla al mare, in Miramare, dove sono tutti ragazzi meravigliosi che addirittura per allenarmi si mettono in carrozzina perché ho una carrozzina in più. Quindi quando mi devo allenare prima di una gara importante loro si siedono e giocano con me. e quindi li ringrazio tantissimo perché mi sono di supporto in tutto, anche nelle trasferte. Sono felice di appartenere a quel circolo. Il biliardo in carrozzina è una disciplina paralimpica? Paralimpica, sì. Noi dal maggio dell'anno scorso siamo diventati una disciplina paralimpica. Quindi il nostro sogno e anche il sogno della federazione è che un giorno possiamo andare alle Paralimpiade. Però già aver fatto due campionati italiani con un certo numero importante perché diciamo che noi in tutta Italia siamo quasi 80, in tutte le regioni. Quindi stiamo sempre crescendo. Dobbiamo trovare sale accessibili, quindi la federazione ci sta aiutando in questo senso. Circa una decina di giorni fa ho ricevuto una targa dal comune di Montesilvano per questa vittoria che mi ha fatto un immenso piacere. Si è parlato di un progetto che vuole fare il comune di creare una location, una sala, mettendo dei biliardi, soprattutto per ragazzi disabili. Visto che io poi faccio anche l'istruttore, quindi mi dà questa possibilità. E lo voglio ringraziare pubblicamente perché è un bellissimo progetto che ci stiamo lavorando. Vogliamo rivolgere un messaggio perché la tua storia veramente ha commosso tutti. Volere e potere? Il messaggio è che nella vita, con la volontà, con la voglia e anche con la fortuna di avere, io ho l'immensa fortuna di avere mia moglie Carla e mia figlia Sara, che mi supportano in tutto, si può arrivare a qualsiasi risultato. Io nel 2012 guardavo il sitting volley in tv e sono arrivato in nazionale. Guardavo il biliardo e sono arrivato campione italiano, quindi tutto è possibile, con la costanza e con la voglia di fare. E poi dico ai ragazzi che comunque fa bene uscire, fare sport, provare, che comunque è sempre un aiuto. Davvero complimenti per tutto, tu sei un esempio da emulare, grazie ancora. Grazie, grazie a tutti e un abbraccio ai telespettatori.